Se pensi che la stella più grande conosciuta nell'universo sia Uy Scuti o forse Vy Canis Maioris, ti sbagli. La stella più grande conosciuta ora è Stevenson 2 a 18, una stella che è 2158 volte più grande del Sole. Se sei curioso e vuoi saperne di più su questa stella, guarda il video fino alla fine e non dimenticare di supportare il canale con il tuo mi piace e l'iscrizione. Ora entriamo nel video. Stevenson 2 a 18 è una stella supergigante rossa nella costellazione di Scutum. Si trova vicino all'ammasso aperto Stevenson 2, che ha circa 19.000 anni luce dalla Terra nel braccio Scutum Centaurus della Via Lattea. È considerata una stella di un ammasso stellare a una distanza simile ed è tra le stelle più grandi conosciute, essendo una delle supergiganti rosse più luminose della Via Lattea. Stevenson 2 a 18 ha un raggio stimato di circa 2150 volte quello del Sole, corrispondente a un volume quasi 10 miliardi di volte quello del Sole. Se questa stima è corretta, ci vorrebbero quasi nove ore per percorrere la sua superficie alla velocità della luce, rispetto ai 14,5 secondi per il Sole se collocato al centro del Sistema Solare. La stella mostra caratteristiche e proprietà di una supergigante rossa altamente luminosa con un tipo spettrale, DM6O, il che è insolito per una supergigante. Questo la rende una delle stelle più estreme della Via Lattea. Sebbene solitamente classificata come una supergigante rossa, il suo significativo eccesso di infrarossi ha portato alcuni autori a suggerire che potrebbe essere un ipergigante, simile a Vy Canis Majoris. Uno studio del 2012 ha calcolato una temperatura efficace di 3200 K, 2926 gradi Celsius, rendendola molto più fredda delle supergiganti rosse più fredde previste dalla teoria dell'evoluzione stellare. Il suo raggio stimato di 2150 raggi solari è stato derivato da una luminosità bolometrica, di circa 440.000 volte la luminosità solare e una temperatura efficace stimata di 3200 K. Questo la renderebbe più grande di altre famose supergiganti rosse come Antares, Betelgeuse, Vy Canis Majoris e Y Suti. Tuttavia, c'è incertezza nella misurazione della distanza, con un'incertezza relativa superiore al 50%. Il raggio stimato di 2150 raggi solari potrebbe essere una sovrastima, piché il raggio stellare più grande previsto dalla teoria dell'evoluzione stellare è solo di circa 1500 raggi solari. Le stime di luminosità per la stella sono anch'esse incerte, con un'altra stima che suggerisce un valore di 90.000 volte la luminosità solare. L'associazione ambigua della stella con la distanza incerta e le diverse velocità radiali rispetto al resto delle stelle in Stevenson 2 ha portato alcuni autori a considerare la stella come una supergigante rossa non correlata a Stevenson 2 o a qualsiasi dei cumuli di supergiganti rossi nel braccio scutum centaurus. Grazie per aver guardato il video fino a qui. Non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e condividere con i tuoi amici per altri video come questo.